In A2 la Sia Cortona rimonta e spugna il parquet di Lago Negro e vince al tie-break 27-29, 25-20, 25-19, 16-25, 9-15, nonostante l'assenza dell'infortunato Cantagallio, strepitosa performance di Felice 7, 29 punti per i locali Turin 28, 2 punti preziosi e quinta piazza con due gare da recuperare in casa ortonese. In A3 l'abba Pineto crolla ad Aversa 3-0 a 18-22-21 i parziali dopo 11 successi consecutivi. L'impiego minimo di Morelli non giustifica una giornataccia che ci può stare ma che spedisce i pinetesi al terzo posto a meno 3 dalla vetta succede. In B maschile cade l'alba adriatica Potenza Picena 3-1 accusando pesantemente l'assenza del pezzo da 90 di Felice. Nell'altro girone un altro successo della Virtus Paglieta che liquida con un secco 3-0 a 13-17-22 anche in Lucera nell'attesa di un altro turno interno a mercoledì contro il Gioia del Colle. In B uno femminile l'altino cede nel big match al Sant'Elia per 0-3 a 20-23-19 in una gara a fase alterna per il sestetto delitterio che resta al secondo posto. Non gioca nemmeno stavolta la Conetti.it Chieti che salterà pure il prossimo turno in casa 6 gare su 6 mai giocate. In B2 la Rabona Espugna Pagliare tra 0-24-17-24 nelle immagini e si appresta a ospitare mercoledì prossimo l'altra capolista Porto Sant'Elpidio. Exploà esterno 3-1 anche dell'impianti Futura Teramo che in classifica sale a 10 punti e è onorevolissima terza piazza. Cede 1-3 contro le forti marchigiane del Porto Sant'Elpidio, una guerrita e poco fortunata gata Pescara 3 che dà comunque evidenti segnali di crescita.